Nel video di oggi esploreremo i primi dieci paesi classificati come i più poveri del mondo. Nonostante la ricchezza globale esistente, alcuni paesi continuano a lottare contro la povertà estrema. Utilizzando il PIL pro capite come criterio, elencheremo i paesi più poveri del mondo. Prima di addentrarci nella lista, è importante comprendere il concetto di PIL pro capite e come viene utilizzato per classificare i paesi. Il PIL rappresenta il valore complessivo dei beni e dei servizi prodotti annualmente da un paese. Bisogna anche considerare la popolazione per avere un quadro più chiaro di quanto ricco o povero sia un paese. Pertanto si divide il PIL per il numero totale di persone nel paese per ottenere il PIL pro capite. Tuttavia, questo indicatore da solo non fa capire tutto, poiché il costo della vita e i tassi di inflazione possono variare notevolmente da una nazione all'altra. Per ottenere un confronto più accurato, si utilizza la parità di potere d'acquisto, che considera i costi locali e i tassi di inflazione per fornire una visione più completa dello standard di vita nei diversi paesi. Prima di iniziare, lascia un mi piace e iscriviti al canale attivando le notifiche cliccando sull'icona della campanella. Procediamo adesso ad esaminare più da vicino i primi dieci paesi più poveri del mondo. Il Madagascar si posiziona al decimo posto nella lista dei paesi più poveri del mondo. Nonostante la sua ricchezza di risorse naturali, come l'oro e il legno, il 75% della popolazione vive in condizioni di povertà estrema. Secondo la Banca Mondiale, più di 25 milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà internazionale. La mancanza di infrastrutture e servizi di base, insieme alla scarsa governance, contribuisce alla difficile situazione economica del paese. Al nono posto troviamo il Chad, dove le frequenti calamità naturali, come le inondazioni e le siccità, aggravano ulteriormente la povertà. La mancanza di investimenti nei settori chiave come l'agricoltura e la sanità rende difficile per la popolazione migliorare le proprie condizioni di vita. Il paese ha servizi pubblici scadenti come il settore sanitario. Infatti alcuni anni fa in tutto il paese c'erano solo 345 medici. Questa situazione si verifica poiché una larga fetta della popolazione non ha accesso all'istruzione. Solo circa un terzo degli adulti riesce a leggere e scrivere dove la mancanza di opportunità educative deriva dalla scarsità di risorse umane qualificate e dall'inadeguatezza delle infrastrutture. All'ottavo posto si colloca la Liberia. Nonostante la sua ricchezza di risorse naturali come oro, gomma, diamanti, legname e minerale di ferro, la Liberia rimane senza dubbio uno dei paesi più poveri del mondo. La principale causa di questa povertà risiede nei conflitti interni e nella corruzione diffusa all'interno del governo. I cittadini hanno vissuto una lunga guerra civile protrattasi per 14 anni, lasciando il paese in uno stato di devastazione e instabilità. Anche se la Liberia ha iniziato a riprendersi lentamente dalla guerra, il processo di ricostruzione è ostacolato da sfide significative. L'effetto prolungato della guerra si traduce in povertà diffusa e violenza endemica, con il reclutamento forzato di bambini come soldati che è diventato una pratica comune. Al settimo posto troviamo il Burkina Faso, dove il 90% della popolazione povera risiede nelle zone rurali. Nonostante il crescente sviluppo del paese, il 40% dei cittadini vive al di sotto della soglia di povertà, con particolare difficoltà nelle campagne e anche nelle aree urbane. La dipendenza esclusiva dell'economia rurale dall'agricoltura, resa imprevedibile dalle fluttuazioni delle precipitazioni, porta a gravi problemi di insicurezza alimentare e malnutrizione infantile. L'instabilità politica incide pesantemente sull'economia del Burkina Faso, contribuendo alla sua presenza nella lista dei 10 paesi più poveri del mondo. Al sesto posto troviamo il Niger, situato all'estremità del Sahara. Con oltre il 45% della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà internazionale, il Niger affronta gravi sfide socio-economiche. Una delle principali cause di questa povertà è il tasso di natalità estremamente elevato, con una media di 7 figli per donna. Questo rapido aumento demografico crea pressioni significative sulle risorse e sui servizi pubblici, esacerbando la situazione economica del paese. La siccità ricorrente rappresenta un'altra sfida importante per il Niger, minando la sicurezza alimentare e portando a periodi di carestia. Questi fattori combinati rendono il Niger vulnerabile, agli effetti devastanti della povertà e dell'insicurezza alimentare. Al quinto posto si colloca la Somalia. La radice della povertà in questo paese va oltre le capacità del governo di fornire assistenza ai suoi cittadini. La Somalia è fortemente influenzata dai cambiamenti climatici e si trova impreparata nel fronteggiare le conseguenze. La fame rappresenta una minaccia costante in Somalia, con la siccità e la carenza di alimenti che portano a gravi sofferenze tra la popolazione. Le comunità rurali sono le più colpite dagli effetti della siccità, spingendo molti a cercare rifugio e assistenza nella capitale, Mogadiscio. Lungo il tragitto verso la città si registrano casi di morte e sofferenza dovuti alla fame e alla sete, mettendo in evidenza la grave povertà che affligge il paese. Al quarto posto troviamo il Sud Sudan. La qualità della vita in questa nazione è estremamente bassa. La sua posizione geografica ha un impatto significativo sul tasso di povertà, essendo un paese senza sbocco sul mare che rende difficile l'accesso agli investitori stranieri e agli operatori umanitari. Un'altra causa della povertà è la diffusa corruzione, con individui che controllano il capitale delle imprese e lo utilizzano esclusivamente per il proprio tornaconto personale. Il Sud Sudan affronta inoltre gravi problematiche nel settore sanitario, con un'elevata mortalità infantile dovuta alla mancanza di immunizzazione e all'accesso limitato ai servizi medici di base. Al terzo posto si trova la Repubblica Democratica del Congo. Questo paese dell'Africa subsahariana è ricco di risorse naturali straordinarie, come vaste aree coltivabili, un grande potenziale idroelettrico e importanti giacimenti di rame e cobalto. Tuttavia i suoi abitanti non hanno goduto appieno di questa ricchezza. La situazione politica instabile del paese e la sua storia di conflitti armati hanno profondamente influenzato la vita dei suoi cittadini, con molti sfollati e pochi accessi ai servizi di base come istruzione e assistenza sanitaria. Al secondo posto troviamo la Repubblica Centrafricana. Nonostante il paese sia ricco di risorse naturali come petrolio, uranio, diamanti e oro, ben il 71% della sua popolazione vive al di sotto della soglia di povertà internazionale. La Repubblica Centrafricana è stata segnata da una lunga storia di conflitti e violenze, con diverse fazioni politiche, gruppi etnici e tensioni religiose che hanno contribuito a generare instabilità e caos. La situazione sanitaria del paese è altamente allarmante, con un elevato tasso di mortalità materna e infantile causato dalla mancanza di accesso a cure mediche adeguate. La diffusa corruzione e una gestione inefficiente delle risorse pubbliche hanno contribuito a mantenere la popolazione in uno stato di povertà estrema, con pochi segni di miglioramento nella riduzione delle disuguaglianze economiche. Al primo posto si trova il Burundi. È uno dei paesi più poveri e meno sviluppati al mondo, segnato da una lunga storia di instabilità politica e conflitti etnici. Le guerre civili e i disordini interni hanno lasciato il paese vulnerabile, con l'economia in rovina. Inoltre, la gestione inefficace delle risorse e la diffusa corruzione hanno ostacolato e gli sforzi di sviluppo e di riduzione della povertà. I problemi ambientali, inclusi la siccità, le inondazioni e i cambiamenti climatici, aggravano ulteriormente la situazione, portando a carestie e instabilità alimentare. Se avete apprezzato il contenuto di questo video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per ricevere altri video simili in futuro. Non esitate a condividere i vostri pensieri e commenti. Apprezziamo molto il vostro feedback e siamo certi che anche Gili e altri spettatori lo apprezzeranno.